La polemica Carina attaccata dai fan di Belen e Cecilia, di me non si può dire niente Carina Cascella su Instagram si scaglia contro le fan di Cecilia e Belen Rodriguez, la polemica. La polemica tra le sorelle Rodriguez e Carina Cascella sembra aver coinvolto molte più persone del solito. A prendere le parti delle due Argentine adesso arrivano anche le loro fan page. Quest'ultime infatti, stando a quanto riportato dalla Cascella su Instagram, avrebbero preso di mira l'opinionista che, appurato ciò, non ha tardato a rispondere. Le fan page citate da Carina continuerebbero a riportare un avvenimento del passato di cui, come spiega la stessa, nessuno ha mai avuto le prove. . Insinuazioni queste che, tuttavia, hanno acceso animi della napoletana che, nei commenti prima e con un video dopo, ha risposto per le ringale ammiratrici delle sorelle Rodriguez. . . Carina Cascella si difende sul social, a casa mia faccio quello che voglio. . Quello che le fan di Cecilia e Belen Rodriguez continuerebbero ad insinuare, secondo Carina, non ha nessun fondamento. . Quella è una leggenda di cui non ci sono prove dice la Cascella in una store su Instagram, aggiungendo poi, anche se fosse, io a casa mia faccio quello che voglio. . La notizia del suo ricovero in ospedale a causa di un giochino a luci rosse, dunque, sarebbe una leggenda metropolitana dice la stessa. . 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